Non sapete come dinamico che vi ritrovano all'Adolesi, quindi anche un punto di croce che si trova da chi si è dedicata all'Adolesi. Possiamo scopropaginare in questo punto dei puntagini crocinali dell'epoca, forse le loro preferite ritrovare a San Piero a Pagini, che lo ha usato a tutti. Però se è fatto questo punto, si è adeguato, anzi se è presionato alla loro propria patentezza. E quindi con l'Adolesi. Anche in questo caso ci può mancare dei problemi, sempre di natura, perché per la giurisdizione non è stato molto entusiastico. Non dobbiamo comunicare la croce della terra, che è ancora parte della diocesi di Napoli, mentre l'ultimo punto delle croce da partecipare fisicamente, magari alla diocesi di Napoli, come proprietà dei terreni. Quindi, i procinati, la diocesi di Napoli, riteneva molte di croce della ricadente della propria diocesi di Napoli. La diocesi di Pozzuoli riteneva molte di croce della ricadente della propria diocesi di Napoli. Non mi considerava questo territorio, questa chiesa, indipendentemente da certe parte della loro. Venivano le visite pastorale del Vescovo di Pozzuoli, ma finivano le visite pastorale e pastorale dell'Arcirespo di Napoli. Tant'è vero che nel 1744 la chiesa di Pozzuoli ha dato una visita del Vescovo di Napoli e il Carnaio Simeone. Il capitolo di vista pastorale dell'Arcirespo di Croce definenziò un avviamento della chiesa. Tant'è vero che questo era successo. Mentre noi di Croce arrivavano i coloni da Croce, un gruppo di contadini dall'Ussipico si andavano a stabilire lì da due vicine dove erano male paracoli. Un posto, a un'ora di più macchina, che si era iniziato paracoli, inizio dalla Pio, non sono disabilitata, non so, poi paracoli e lo sarebbe diventato paracoli e poi paracoli. Però quindi c'era il pieno territorio vettorale, sia come giuriscrizione amministrativa sia come giuriscrizione amministrativa. Cosa cresce la chiesa di Pozzuoli? Per evitare che venisse qualcuno da Pozzuoli, qualche chiesa da Pozzuoli, a prendere questo resto, nel 1696, fu eretta una chiesa, in titola da Sardana, 50 anni dopo di questa chiesa qui. Solo quattro anni dopo la costruzione di questa chiesa di Sant'Anna, la chiesa di Sant'Anna fu eretta a Pozzuoli, nel 1600, e nel suo territorio finito lo sanno anche in territorio città. Questo possiamo dirlo adesso di 9 anni, sono passati 300 anni, questo è un provvedimento sbagliato da parte della diocese di Pozzuoli, che causò un grande contento, una funzione utile per scuole velocità. e noi dobbiamo andare da parte della chiesa di Pozzuoli, e noi dobbiamo andare da parte della chiesa di Pozzuoli, e noi dobbiamo diventare parte della barrocchia di Pozzuoli. Ecco, ma là cominciano a montare altre ruote, anche dal punto di rispia religioso. e magari diciamo che ovviamente se la Pozzuoli fosse stato un po' più scala, se avessi fatto tutto lungo della barrocchia di Pozzuoli, saremmo vissuti tranquillamente. Come c'è un altro premio di dolore, con Pozzuoli che la considerava a scuola, che la considerava a scuola, che la considerava a scuola, in fin nel 1807, con delle progette, che fu assegnata alle criniche, anche dalla diocese di Pozzuoli. Le fratelli Mattieri, i procinari non avevano mai accettati di andare a parte per i saccamenti, anche perché non c'era la data programma, che non c'era la scuola, e quindi da una progette per impandirsi in prima di nuovo. E quindi di fatto, proprio la considerava la propria barrocchia. Solo nel 1853, questa chiesa, formalmente separata dalla chiesa di barrocchia, però che si è rispettato nel 1887, che credo che c'era il barrocchia. E' un pittà, un gioco, rispetto alle storie delle strade, una storia d'inizialità, non può riuscire a usare le stesse modifiche, che fanno una storia d'inizialità. che si è rispettato. Allora, allora qui, con la chiesa di barrocchia, tutti si giustano, per tempo era nata proprio una chiesa, a cappella, dedicata alla barrocchia di barrocchia di barrocchia, barrocchia di barrocchia di barrocchia. Poi, il gusto che conclude, un altro momento pericoloso, qualche anno dopo, questa chiesa di barricchia, non so se lo sapete, ma questa era la chiesa Malga, che era una chiesa litica, nel 1926, in seguito alla chiesa di San Vicenzo, sull'iniziativa, il don Oredo, stiamo parlando della Madonna Assunta, per dare un ruolo di curva di abitanti, nel don Oredo, e la chiesa di San Vicenzo, e ci sono passati per il don Oredo, come chiesa spursale della Madonna Assunta, un vero della parrocchia della Madonna Assunta, in seguito alle nuove parti. della parte religiosa, abbiamo detto che, a Monte di Forte, si era sviluppato la ricordatura a riccaccio alla ricordazione della vita. Proprio alla ricordazione della vita, i molti uniti, che richiestero l'arrivolo ulteriore quantuò per approcciare per essere uniti, e che quindi continui ad affrontare la ricordazione. Quindi, a casa, una serie di piccoli proprietari, sia nella statunità dei buoni.